Ti presentiamo un saluto da Leonardo Andrini, chiedo scusa intanto per il ritardo con il quale pubblico il video Il mio motto è sempre sul pezzo, sono arrivato un po' tardi perché purtroppo da lassù qualcuno ha voluto farci il favore quest'oggi di bagnarci dalla testa ai piedi, ero allo stadio Franchi in curva a fiesole per capire un po' e per tastare con mano la contestazione del tifo viola Quindi partiamo subito velocemente con l'analizzare la contestazione per poi andare a parlare, anche se onestamente faccio fatica, della partita che la Fiorentina ha ennesimamente, anche se non si dice, pareggiato Allora, contestazione, io l'ho sempre approvata la contestazione da parte della curva, quindi perché dovrei andare contro la curva? Modalità e tempi secondo me giusti, quando c'è lo sfottò, quando c'è il coro, quando c'è lo striscione, senza andare a offendere, senza andare a fare le cose Quando c'è un dissenso pacifico, io non posso che dare ragione perché oggettivamente ci siamo un po' tutti quanti rotti le palle di questa mediocreità in cui siamo piombati da diversi anni a questa parte Quindi contestazione che personalmente trovo giusta Chi contesta i contestatori a sua volta hanno le loro ragioni e io li rispetto Ci sono stato un po' di scaramucce durante il primo tempo tra la Fiesole e una parte della tribuna che solitamente non certo fa partire Cori, oggi hanno fatto partire Cori Va benissimo tutto, io non sono certo io che devo giudicare Ognuno è libero di fare quel che vuole, lo stadio non è un teatro dove si sta zitti e si osserva, lo stadio è un momento di partecipazione dove chiunque nel massimo della tranquillità e dell'onestà può tranquillamente dire quel che pensa senza andare a cadere in offese gravi e quant'altro Quindi contestazione io la approvo e continuo a essere convinto che la Fiesole, ma non importa certe logica io fa bene a proseguire questa campagna contro i della Valle Non so a cosa porterà però quando mezza città è divisa vuol dire che comunque qualche cosina della Valle di non buono ha fatto Fine contestazione, parliamo della partita, partita che onestamente finisce per l'ennesima volta con 1-0-0, l'ennesimo pareggio della Fiorentina, il sedicesimo pareggio stagionale C'è poco da dire, non concludiamo La cosa mi fa arrabbia, e chiudo perché sto dilungandomi e non voglio fare, mi sono ripromesso di non fare video troppo lunghi La cosa mi fa un po' arrabbiare è che ho sentito dire, eh però Montella non poteva certo fare i miracoli Beh, signori, in campo oggi c'era Pioli, cioè ce l'hanno messi Pioli in campo oggi perché cosa ha fatto Montella? Non ha stravolto niente, ma aspettiamo magari un 3-5-2, è rimasto il 4-3-3, quindi non è che abbia fatto degli stravolgimenti incredibili Quindi più o meno è la stessa formazione che metteva in campo Pioli fino a una settimana fa Bene, quindi non mi aspettavo di vedere grossi stravolgimenti, mi aspettavo però che gli interpreti, che sono gli stessi, dal portiere all'attaccante, facessero un po' di più Non l'hanno fatto, non l'hanno fatto, quindi questo pareggio è stato archivato come Vabbè, ma Montella non poteva fare i miracoli perché c'è stata una settimana particolare Sì ok, ma il portiere è lo stesso, i difensori sono gli stessi, i centrompiti sono gli stessi, a eccezione di Benassi Che non è entrato gli attaccanti sono gli stessi, cioè non è che, voglio dire, Montella giustamente, aggiungo io, abbia stravolto chissà cosa Quindi mi domando perché trovare degli alibi anche oggi È l'ennesimo pareggio contro un Bologna che veniva qui per provare a strappare dei punti e c'è riuscito Per cui voglio dire oggettivamente io non sono contento, non sono contento E anche se è la prima di Montella non me ne può affegare di meno Oggi la Fiorentina doveva vincere e non lo ha fatto Ma non è che non lo ha fatto per meriti del Bologna Non l'ha fatto perché non si è fatto fondamentalmente grossi tiri in porta Io se non sbaglio saranno stati fatti due tiri in porta sulla porta di Skorupski Quindi voglio dire non è che ti hai demeritato il pareggio e meritavi la vittoria No, no, il pareggio secondo me è il risultato giusto e che si è creato noi hanno creato loro Ma credo che alla fine il composto totale della partita ci vede nuovamente pareggiare E quando pareggi 16 partite su 31 tu ti devi fare una domanda Ti devi fare una domanda alla quale mi auguro Montella salta a dare risposta Domenica con la Juve e poi finalmente si gioca questo 25 aprile a Bergamo Che dire, speriamo bene ma le premesse non sono buone Un saluto da Leonardo Di Andrini sempre sul pezzo, ciao